Oh, Abarabba, non ci pensate più. Non tornerà, date retta a me. E anche se tornasse, che ce ne paremmo? Vi fa ancora paura perché con voi rugiva come un toro di bronzo. Non avete il coraggio di affrontarlo nemmeno quando non c'è. Se n'è andato al diavolo una volta per sempre, vi dico. Ormai ha perso la testa, striscia lungo i muri come un vecchio sacerdote. Perché credete che non sia più venuto con noi? Perché ha paura perfino di muovere un dito. Non sappiamo ancora se non tornerà. E anche se tornasse, qui c'è qualcuno capace di metterlo a posto. E' uscito di prigione, assolto ma completamente impazzito. Lo vedremo se è così. Hai ritrovato la strada per arrivare a fingire? Ci avevamo già dato per morto da una settimana. Te. Troverai qualche cambiamento. No! Quello che è stato, è stato. Hai ritrovato la strada.